ho creato questo assieme di solido per verificare questa equazione che abbiamo trovato durante la lezione della scorsa settimana dunque ho ipotizzato ho creato questo file sono andato poi a misurare questa distanza tra questo punto cancellare questo e questo punto qua cancello questo ok dunque è il mio dx che sarebbe il mio a e dunque ho imposto 15,33 mm a questo punto vado a misurarmi il mio b clicco qua e clicco qui ho trovato il b che è 38,3283 ok si può sbagliato in realtà 32 83 ok sono ha impostato in questo punto una forza verticale di un newton e poi sono andato a vedere l'angolo che l'angolo è 39,95 34 gradi ho impostato tutti questi dati con la calcolatrice e mi sono andato a trovare p dunque p da un punto di vista teorico se applico una forza verticale di un newton con queste con le dimensioni di a e b e di alfa che questo angolo qua trovo che la per la p dovrebbe essere 2,089 newton a questo punto sono andato a simulare con simulation e con motion applicando una forza di un newton e applicando un qualcosa qua che non sto a spiegare perché vorrei che lo facessero i miei ragazzi di quinta e sono andato poi a trovarmi il grafico della forza di reazione e ho trovato che dovrebbe essere attorno a 2,1 newton sono poi o poi salvate questo grafico in formato csvp csv e poi l'ho aperto con excel e questi sono i risultati che si hanno sulla forza di reazione e proprio 2,089 015 attorno a questa cifra qua e dunque c'è corrispondenza tra il risultato teorico e la simulazione con solidworks con motion grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti